... Questo è proprio ridicolo, ma dov'è? Stai calmo, il volo è arrivato tardi dall'India, eh? Tutto ciò che facciamo è solo aspettare la signora. Ma non ti preoccupare, vedrai che sarà qui presto. Eh sì, lei sarà a ritardo anche per il suo funerale. Ti ho sentito. Ehi, andiamo, 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 toglieteli di mezzo. Ricorsa, ricorsa, toglieteli di mezzo. Carino il vestito, eh? Non ci sarà nessuna più bella in tutta la serata. È molto bene. Bellissima. Grazie. Yes! Signora, mancano dieci minuti. Grazie. Sì, sta arrivando. Sì, sta arrivando. E ora per presentare il premio umanitario, l'ambassatrice della pace dell'Ase, è un grande piacere di presentarvi, prenda parla. Grazie.